vi porto all'interno della sala del commento del tv table capitanata da max greco come funziona niente funziona che entriamo c'è questo bel divanetto in pelle che max sodia piccolo spoiler è scomodissimo per commentare poi c'è questo bel pc qua davanti piccolo che fino a tre anni fa vedevo tranquillamente adesso invece ho bisogno degli occhiali che è collegato con la nostra regia vedete c'è il microfono microfono vediamo le carte ovviamente e da qua commentiamo quello che succede e questo video è per dirvi che tutte le sere oggi ovviamente è partito prima il tv table facciamo dopo no ma dico tutte le sere noi siamo in diretta oggi doppietta quindi se vedete il video e siete usciti volete prendervi una pausa non siete schierati scendete giù barra chiedete a noi e vi porteremo in questa magica stanzetta per commentare insieme a max greco insieme agli amici che da casa ci seguono perché ovviamente arrivano anche in commenti tutte le sensazioni ciò che pensano gli altri giocatori delle mani list delle mani giocate e anche voi potrete dire la vostra io c'ero voi c'eravate Isof c'è max greco c'è la cazzagliotto c'è ma anche solo tu vieni giù e ti aspettiamo al tv table io c'ero